Questo spazio è uno spazio molto piccolo, circa 30 mili quadri, un po' perché mi piacciono gli spazi raccolti e un po' perché così posso portare avanti la mia idea che è presentare con monografiche il lavoro degli artisti ormai storicizzati ma che hanno ancora molto da dire soprattutto delle ultime opere perché possono proporre progetti che hanno un senso e quindi lo spettatore può, seppure in poco spazio, capire il lavoro e la poetica di queste artisti. Questo più o meno è l'idea per la quale nasce questa galleria. Le mostre che saranno in programma partendo dalla mostra di Cunebis di adesso, che finirà a fine novembre, quindi chi non è venuto che può venire a vederla, seguirà una personale di Giorgio Griffa e con l'anno nuovo un contemporaneo col Bobur, che ci sarà a Pistoletto e a seguire una mostra di Paolini, anche quella molto bella, che sarà in contemporaneo con la rappresentazione della sua grande opera al Museo Louvre di Parigi ed è una cosa che avviene soltanto il terzo artista vivente dopo Tomli, il secondo artista vivente dopo Tomli a avere questo onore, quindi sarà una cosa bella, è un'unizione sia poter ospirare alla mostra qua che andare a pure la nuova detenita.